Davide Pascolo per Lega2 dei Libasket.it, una partita per voi tesa, vi siete subito un po' caricati di falli, Bologna è stata più costante. Sì, abbiamo giocato a Spranzi, abbiamo fatto un'altra cosa, è molto emersi, siamo entrati con la giusta energia, però loro stavano un entusiasmo per questo periodo e alla fine che c'è un'altra cosa.